Ciao ragazzi, oggi ho fatto un attacco con un calarmazzo bellissimo e vi volevo far vedere a voi per divertirvi Aspetta E' l'incontrere, ecco Ora, d'asso Qui, aspetta Vai, vediamo Con il mio personaggio più forte Un calarmazzo Guarda E non è nemmeno la sua più forte Qui, quindi Guarda, guarda Un calarmazzo da solo? Si Un calarmazzo da solo Ma com'ha fatto? Vederemo Vediamo Cioè, poi Anche con le cozioni Sperate se mi era spento Con le code Quindi ragazzi Guardate Ora vado a distruggere Il mortaio al 9 Poi guardate Qui Faccio la cozione fulmine Mi sembrava lo shock Lo shock con la bomba A quel mortaio al 9 Ora che distrugge Il coso Il quartier generale Guardate Questo attacco è solo per Farvi divertire molto E insegnarvi un po' Come si attacca con i calarmazi Guardateli Guardateli Alcuni video nostri Vi insegnano Che 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 Ora mettiamo la velocità Dove Dove Vuol dire anche Che Fare Tre stelle È È Il modo perfetto Per i nostri video Quindi noi Tutti i video che faremo Saranno per Per Tre stelle Con Poche Con Più poche cose Quindi Quindi ragazzi Guardateli Così Imparate Un po' Attaccare Poi Ora Non c'è Ora Non c'è Il mio Ugino Perché Noi Abitiamo A Un'altra Casa E questo È Il mio Ipod Ovviamente E quindi E quindi Li posso far Solo io I video Io mi ci impegno Al massimo Per voi Mi ci impegno Al massimo Ciao